Gli obiettivi principali erano quelli di fare in modo che Teramo diventasse sempre più città universitaria. Con l'arrivo di questo progetto, progetto che ci siamo giudicati, grazie all'esperienza e al lavoro di tantissimi tecnici, tecnici molto validi e sulla collaborazione di tutti i componenti del CTA, è un progetto che oggi ci permette di mettere a disposizione e di lasciare alla nostra azienda un piccolo tesoretto di risorse che avrà una ricaduta sui giovani e sugli studenti universitari, non solo della città di Teramo come città universitaria, ma sulla provincia di Teramo come provincia universitaria. Il progetto è una ricaduta su 16 comuni dove andiamo a ricreare tutti quei punti di riferimento creando delle hub all'interno di tre strutture dove i sindaci hanno messo a disposizione i comuni le strutture per poter espletare questo progetto che era indispensabile per la realizzazione di tale. A proposito di Teramo città universitaria, la casa dello studente a che punto è? La casa dello studente sta procedendo, sapete tutti che c'è stata praticamente l'emergenza, la maggior parte delle opere sono state, il progetto è partito in piena emergenza Covid, quello che vogliamo dire è che purtroppo visto le incertezze del caso il Ministero ha dato una proroga forzata fino al 2026 il progetto verrà realizzato. Per Teramo la residenza universitaria oggi è una certezza.